Ciao a tutti e bentornati sul canale, sono Pascuale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi volevo un attimino andare a presentare le mie impressioni su quello che sta accadendo sui mercati e relativamente a portare quello che è successo al mio portafoglio azionario. Diciamo che in questo momento mi trovo in una situazione in cui vedo tutti quanti parlare di questi grossi crolli, di situazioni in cui il rosso si vede tutti i giorni e io come ben sapete sono appena rientrato dalla mia permanenza più che annuale, sette anni in Irlanda e nel mese di febbraio non ho praticamente fatto operazioni, non ho fatto video di riepilogo sul mio portafoglio e in realtà io il mio portafoglio sul telefonino non sono mai andato a guardarlo per tutto il mese di febbraio, l'ho guardato di recente. Sentendo anche un po' parlare amici che ho qui, amici youtuber, colleghi, anche loro mi dicevano che effettivamente il loro portafoglio ha avuto delle performance piuttosto pessime con dei drawdown che in molti casi hanno toccato il 10-12%. Di per sé questa cosa mi ha fatto un po' paura, d'altro canto però io sono andato a guardare il mio portafoglio e tutti questi drawdown non li ho visti, perché volevo un attimino andare a cercare di capire perché il mio non ho avuto tutti questi drawdown e cercare anche di discutere insieme a te, insieme a voi che mi seguite, per quali motivazioni questo possa essere accaduto secondo le vostre opinioni. Per quanto mi riguarda, e adesso andiamo un attimino poi anche a schermo a vedere di cosa sto parlando, quello che mi ha aiutato a non avere dei drawdown eccessivi è prima di tutto aver diversificato il portafoglio su aziende che non siano solo e esclusivamente growth. Come si può vedere in questo periodo, dopo tutto quello che è successivo al calo drastico che si è avuto a marzo dell'anno scorso per la problematica pandemica, i titoli che hanno trainato il mercato sono prevalentemente quelli tecnologici quelli ad ampio spettro tecnologico, per cui Zoom ad esempio, Fiverr, tutti quelli che hanno anche apportato delle modifiche quasi sostanziali alla vita di tutti i giorni. Mentre in questo ambito particolare, fino ad adesso, tutte quelle aziende che sono sempre state considerate un po' a bassa crescita o comunque che non danno dei rendimenti eccessivamente importanti in ambito annuale, sono state tralasciate e lasciate un po' in disparte. In questo periodo questi titoli, cosiddetti chiamati value, sembra che siano performando un po' meglio o comunque in questo particolare mese finale di febbraio, sembra che i titoli value abbiano dato dei rendimenti maggiori e delle soddisfazioni maggiori rispetto ai growth. Ecco, io da questo punto di vista la vedo diversamente. Bisogna anche considerare un fatto. Su questo mi ricollego un video che ho visto proprio quest'oggi di Alessandro Tassoni. Non è detto che un titolo growth non possa dare del valore, così come un titolo value non possa andare a crescere nel lungo periodo in maniera importante. Questo perché si fa troppo spesso riferimento a delle etichette che andiamo a mettere noi, ma anche gli analisti, su alcune aziende, senza considerare che l'azienda non è un'etichetta, ma è fatta di un management, di persone, di un fatturato, di prodotti o servizi che devono essere acquistati e devono essere di utilità a chi li va a comprare. E un'azienda considerata value può a un certo punto tirare fuori un prodotto che la faccia crescere. Io, la maniera in cui ho diversificato il portafoglio, è stata orientarmi prevalentemente a creare due portafogli importanti, uno di Ritz, per cui aziende che prevalentemente possono avere crescite ma non importantissime o comunque in linea col mercato di riferimento, ma che distribuiscono mensilmente o trimestralmente dei dividendi molto interessanti. Oltretutto ho aggiunto anche dei BDC, in particolare ho aggiunto solo Main Street Capital al momento, ma nel futuro vorrei aggiungere qualcos'altro. Il discorso reale qui è che il mio portafoglio, da quando l'ho guardato l'ultima volta, prima di partire, in questo momento guadagna un più 3,5% rispetto a quando l'ho lasciato a gennaio. E questo è interessante. Andandolo a guardare bene, ho visto che in questi giorni in particolare ho perso un 3,8%, per cui in linea di massima a febbraio aveva guadagnato quasi un 7% abbondante. Che per un mese, diciamo, è un buon mese, ma anche un 3,5% mensile male non è. E questa protezione da cosa è venuto appunto dei RITS, come dei titoli value che erano in portafoglio, che ho opportunamente diversificato proprio per andare a ottenere un particolare portafoglio che fosse adatto alle mie esigenze, da buon vecchiaccio, che per cui mi potesse andare a formare un cuscino, un cuscinetto che non mi dia appunto delle sollicitazioni particolari nelle grosse cadute, ma allo stesso momento che mi permetta di crescere al ritmo che è più consono a quella calamità e la mia propensione al rischio. Ovviamente non sto dicendo che chi investe in azioni growth è un idiota, perché ovviamente chi ha investito in Tesla, e Darko sarà contentissimo, qualche mese fa, qualche anno fa, in questo momento si trova dei rendimenti che superano il 500, forse il 600%, cosa che io non farò mai con il mio portafoglio, così come è creato. Ovviamente bisogna anche andare a seguire i propri obiettivi di vita, ovviamente chi è più giovane va a orientarsi su dei titoli che sono molto più discorsi, perché nel caso in cui ci si sbagli, si ha molto più tempo per andare a mettere una toppa a quello che sono stati i propri errori, o comunque a recuperare in altro modo. Quello che però volevo portare avanti con questo video era che non bisogna mai concentrarsi troppo su quella che è l'etichetta di un'azione, su quello che è l'aspetto che molte persone vogliono farti comprendere o farti percepire quando si va a parlare di un'azione. Fiverr io la ho in portafoglio, ma in una determinata proporzione rispetto al mio portafoglio. Non credo di lasciarla andare, solo perché in questo periodo sta scendendo. È sopravvalutata? Sicuramente sì, ma non la tengo perché voglio che il mio portafoglio vada a avere un esploit particolare su quella che è la crescita. Credo in quell'azienda, per il business, per quello che va a fornire, per quello che sono i servizi che va a fornire, credo che possa essere nel futuro, anche breve, ma soprattutto in quello a lungo termine, un business che possa andare a rendere particolarmente bene. Bene, ecco, questo è il punto. Quando si va a investire, secondo il mio monesto parele, non si investe in growth, value, dividendo o altro, si investe in aziende. E l'azienda è management, profilo finanziario, profilo di investimento, l'oro, nel senso quali sono i prodotti che vanno a creare o i servizi che vanno a fornire, quali sono le criticità dell'azienda rispetto al mercato di riferimento e quali sono le criticità dell'azienda rispetto al mercato totale e, di contro, quali sono i vantaggi che nel mercato di riferimento totale questa azienda possa avere. Questo è uno dei motivi per cui, secondo me, l'approccio al mondo degli investimenti, così come lo faccio io, per il mio portafoglio è quello che si adega più alle mie esigenze. Ovviamente poi ognuno fa quello che vuole e compra i soldi, però in questo momento quello che è il mio portafoglio di dividendi e per cui il mio portafoglio REITS sta continuando a crescere rispetto a dove l'ho lasciato qualche tempo fa, il portafoglio REITS rispetto al colazionario ha superato, anche in termini di capital gain, per cui al capital gain vanno aggiunti anche i dividendi che ho ricevuto, ha superato il portafoglio azionario e il portafoglio ETF, che di per sé dovrebbero essere quelli che in linea di massima dovrebbero dare un rendimento a lungo tempo, in termine più sostanziale. Ovviamente queste sono solo delle mie valutazioni in ambito personale, per cui adesso vado un attimo a, con te che mi segui, al computer e ti faccio vedere come si è andato ad evolvere il mio portafoglio da gennaio fino a oggi, che è il 6 marzo, giorno in cui sto registrando questo video. Per cui eccoci qui a schermo col mio portafoglio di 3212. Allora, come si può vedere qui, il portafoglio di dividend REITS portafoglio è a un 13% di rendimento da quando è stato creato, mentre quello azionario è a quasi un 11%. Questi sono i rendimenti, questi sono i valori del portafoglio. E questo è il portafoglio totale, in questo momento un 11,23%. Il picco l'ha raggiunto qui, qui, eccoci qua. Il 17 febbraio, 15,12%. Per cui in questo momento quello che il portafoglio sta perdendo è un 4% scarso, un 3.8%, 3.9%, che rispetto a quello che ho sentito dire in questo periodo da vari colleghi è, diciamo, tutto oro colato. Questo non è che viene dalla mia bravura di essere un grande investitore, perché chi mi segue sa benissimo che quello che faccio è semplicemente adattare il mio stile di investimento a quelle che sono le mie percezioni, le mie esigenze è, insomma, quello che per me dovrebbe essere un investitore, per cui adeguato al mio carattere. Un investitore, secondo me, dovrebbe comprare aziende, credere nel business e soprattutto credere in quello che l'azienda sta facendo, per cui le aziende in cui vado a investire sono quelle che più si adattano a quella che è la mia personalità. Io mi sento parte integrante di queste aziende come proprietario avendo investito in queste aziende determinate somme di denaro. C'è chi invece vuole, soprattutto in ambito growth, cercare di semplicemente fare il capital gain importante nel breve periodo. Questo è possibile, come è successo fino ad ora, ma non è detto che possa andarsi a protarre nel lungo periodo. Attenzione che non sto dicendo che chi va a investire in questo modo sbaglia. Semplicemente è una propensione personale. E anche perché, come ho detto prima, citando Tesla, uno col mio 11% attuale riderebbe perché molto probabilmente se è comprato due anni fa sta a un più 600%, ma non è quello il discorso. Per cui quello che volevo far passare con questo video è che non ho fatto il genio e non sono un genio. Semplicemente ho adattato quelle che sono le mie esigenze al mio stile di investimento. E credo che qualunque persona, e non è un consiglio finanziario, volesse andare a investire dovrebbe fare questo. Fare un'analisi sostanziale di quello che sono le sue esigenze senza andare a seguire il mercato così come si muove a naso. Ovviamente il video si conclude qui con non una autocelebrazione, ma semplicemente con delle sostanziali considerazioni personali su quello che è accaduto nel mio portafoglio in questo periodo di tempo in cui non sono stato in grado né di investire né tantomeno di controllarlo. Ricordo che in questo periodo io non ho fatto ingressi perché ovviamente tutta la liquidità è stata usata per riuscire a fare il viaggio che ho fatto. Ovviamente per chi fosse nuovo sul canale mi può seguire non solo qui su YouTube dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì, ma anche su mio sito www.disparmionvesto.com il mio blog dove ogni lunedì vado a pubblicare un articolo nuovo, ovviamente per febbraio non l'ho fatto ma ricomincio subito, e su Instagram io underscore risparmio. Ovviamente se questo video è stato di gradimento il pollice in su sarebbe ben gradito e se sei nuovo e di passaggio su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nel suo video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!